Vai su, ma vai, 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 tutto tu, i denti. Lei è una stronza senza freni, lui è succube di lei. Vanno in giro come treni, da dei grandi pirenei. Hanno fatto dei gasini, che non sanno sistemare. Ora per uscirnevi, li vedremo saltellare nel passato, nel futuro, caro diario, a spasso nel Tampax. Ma è sbagliato! Nel passato, nel futuro, caro diario, a spasso nel Tampax. Amo, ci sto riflettendo da giorni e non so veramente come venirne a capo. Dici su chi ha spalmato la merda sulle maniglie della porta di casa di Leonardo? Porcaccia Eva, mi ci sono imbrattata anche io. Sto bastardo se lo becco lo scuoio e uso i suoi resti per costruire un tamburo da parata. Ma no, che c'entra! Non parlo degli scherzi che fanno a Leonardo. Ah, allora sullo spazzolino da denti elettrico costruito da Leonardo? A me entra fatica in bocca, sto pervertito fa tutto a forma di minchia. Ebbè... Ma no, neanche di questo. O più o meno sì. Nel senso che non capisco come fare a cambiare ciò che abbiamo fatto senza cambiare ciò che abbiamo fatto. Perché se torniamo indietro e modifichiamo il presente, Leonardo non costruirà la pila per cambiare il futuro e nemmeno il presente. Oh, calma, basta con tutta questa teoria del cazzo. Mi fondi la testa più di una grammata pippata dal sedere. Ma scusa, Perfetroz, non possiamo semplicemente ammazzarlo e bruciare tutto? Ma no! No, amore, non possiamo. Cambieremo la storia. Ma dai, ma quale storia? Un quadro del cazzo che manco abbiamo noi, ma la Francia e due minchiate dipinte qua e là. Ma che cazzo vuoi che cambi? No, amore, non si può. Allora, fottiamoci nei cazzi, andiamo al 1987. Io mi sono rotto i coglioni di bere acqua che sa di piscio di rana, dormire sulla paglia e annusare gente che puzza di tuo padre. E che si sono, cogo? Dai, lo sanno tutti che tuo padre puzzava pesante. Lo chiamavano, lo sfollagente. I amici lo invitavano al ristorante solo quando non c'era posto per far rialzare la gente a vomitare. A volte mi mettevo le dita nel culo e le pucciavo nel naso per non sentirle. Erano meglio le feci. Ma che schifo. Wow, anche io adoro i tuoi, amore. Dai su, bamba nel sangue e coraggio da ciupito. E via di viaggio. Ce ne fottiamo dei casini. Tanto peggio di così non possiamo stare. Oddio, amore. Lo sai che secondo la legge di Murphy andrà tutto malissimo dopo questa affermazione? Conosco quella di Smith & Wesson, quella di chi lo ha più lungo alle orge, quella di chi paga pippa per primo, quella del letto più comodo al galeotto con il coltello fatto con lo spazzolino. Ma questa di sto Murphy non la sapevo. Perché l'attore nero anni Ottanta ha fatto una legge? Da quando è il governo? No, amore, è una regola che dice che... Sì, sì, dai frega cazzi, sali che andiamo. Ma così senza nemmeno avvisare Leonardo. E chi cazzo è tuo padre quel puzzone? Mica gli devo dei soldi. Ma beh, ma per carineria. Lui ci ha aiutati. Lasciali un bigliettino come quando i tuoi ti hanno lasciato a casa d'agosto quando eri piccolo perché l'albergo aveva solo una doppia. Sì, mi fa male ancora. Grazie di avermelo ricordato. Ma cazzo ha fatto tua madre a farselo? Puzzava come quando non vedi più vicino di casa anziano a luglio e poi gli apri la porta verso settembre per l'albergo del pianerottolo e lo trovi divorato dai suoi gatti. Wow. Vabbè, gli lascerò un biglietto. Ma cercherò di spiegargli le cose con il cuore. Speriamo che lui capisca. E senti, portiamoci anche questo dietro, va? No, amore. Il mio ritratto a Ludovia e Corina no. Dai, amore, è un Leonardo originale. Magari vale qualcosa fra 500 anni. Amore, è la mia faccia dipinta su una scena di Anna. Capisco che sia un Leonardo. Ma sinceramente vorrei rimuovere questo scherzo del cazzo di Messere Leonardo. Minchia, quel vecchio pederastone coi cappelli da donna anziana ci piacevi proprio. Cosa cazzo ci trovava in te non lo capiremo mai. Ma come? Almeno io ti ho sposato perché ero fatta. Ciò la giusti? Ma come? Wow, anche io ti ritengo speciale, amore. Forza, andiamo! Fanculo poveri! Ma come? Come? Fine della prima parte. Non si capisce che lei è un delinquente malvedo. Fanculo poveri! Non si capisce che lei è un delinquente malvedo. Fanculo poveri! Tutto un poverso di merda! Fanculo poveri! Inizio della seconda parte! amore amore tutto bene a parte che mi sembra di essere stata chiamata da Godzilla sì non sento più un piede anzi lo sento ma è come se fosse bloccato in un posto umido e stretto sì a tal proposito se me lo levassi dal culo te ne sarei in grado ah cazzo scusa è che quando dormo scalcio ma non abbiamo dormito è durato tutto pochi secondi ma amore guarda il castello sforzesco mezzo criccato il parco sempione pieno di tossici sì amore guarda i cartelloni pubblicitari della sloghi e del putemes figa ce l'abbiamo fatta siamo nel 1987 tipo scusa c'è mica un spiccio che ti stessa la tasca cazzo guarda è un vero eroinomane anni 80 bellissimo vieni che ti abbraccio cazzo puzza meno di tuo padre oh cazzo fai mi trovo oh ma siete fuori quei due oh cazzo raga non avevo riconosciuto vi fate anche voi scusate siete due fattoni porco due no siamo solo venuti dal passato con la macchina del tempo e siamo felici di essere tornati nella nostra epoca porca troia dove la comprate la roba deve essere una bomba cazzo che viaggione vi state facendo figa e no in realtà sono arrivato con un piede del culo non solo sapessi che devo fare io per racimolare una dose wow sì salve scusi no non abbiamo monete ha una domanda ma chi è presidente del consiglio no guarda che mio buco cazzo non è preso per un concorrente delle mike sì cazzo mike buongiorno vuol dire che tutto è rimasto inalterato oh comunque guarda che io mi faccio da quattro anni ma te consiglio veramente di smettere eh sì a me non mi fa mica male così eh venga come sei messa hai capito caro diario del 1987 ce l'abbiamo fatta ora siamo accampati e nascosti al parco sempione e ci siamo confusi con i tossicalli che dormono qui così abbiamo il tempo di organizzarci bene siamo enfarici e felici forse anche troppo i tossici sono convinti che siamo in possesso di roba super buona e continuano a passarsi la voce e venirci a chiedere dosi ci fanno proposte veramente indecenti poveri ragazzi mi fanno una gran pena mi ero scordato la piaga dell'eroina di questi anni però va bene la tristezza va bene la compressione va bene la pietà cristiana ma adesso mi hanno rotto i coglioni ci sono più toffa che zanzare cazzo chi esse figa che schifo mi ero scordato le spadrillas ps2 mamma mia le spadrillas ps3 no vabbè no le spadrillas no mamma mia ps4 mai dissi sul pianeta qualcuno acquistiano bene le spadrillas nel passato nel futuro è la tornata di moda è la tornata di moda